Fra un po' c'è Capodanno. Mangia a bocca chiusa che si vede anche l'esofago. A te sei Samuele Contarini? Fra un po' c'è Capodanno. Si, Samuele Contarini o no? Non lo so, no perché... Quando come fa la mostra? Io sono all'estero, quindi non posso. Ma ti devo centrare qua, io non capisco. Non so usare questa fotocamera. Mi riprendo la Ravenna di sabato pomeriggio. Mi fa cagare. Non si possono dire sti parolacce su internet, vero? No, guarda sti video, l'ho fatto io, dai. Dai, fai vedere, lo mettiamo qua, va. Fai vedere che lo riproduciamo in picco, si vede. Ma non si sente, vai in picco, dai. No, non senti il volume. Ma qui sono vicino a lui. No, aspetta, te lo rifaccio. Ti faccio vedere. Dai, fiammati un secondo. Ti piace la Mucca? Ha compiuto 90 anni. Perché non fai il Toy Boys? Lo sfondo, lo sfondo. Lo metto su internet questo, te lo dico. Lo sfondo. Il primo video che faccio con questo telefonino. Lo sfondo. Lo sfondo. Di qualcosa di artistico, dai. Di qualcosa di sinistra. No, di destra. Di centro. Diri qualcosa di Renzi. Diri qualcosa di Renzi. Così prendi tutto. Qualcosa buona in plentola. Io dove devo andare a fare un po' di arte? Tu, ho ancora il tuo messaggio. Ma, no. In America, rispettare la fine delle elezioni. Negli Stati Uniti, perché? Perché se vince... Non vuole l'arte. Non la vuole? E mentre l'altra? E' Clinton? Si chiama Clinton? No, comunque... Ma che schia... Dai, oh, non vai. Che sta buona che va su internet. Me lo censura. Dai, dai. Ecco qua, Ravenna. C'è un mio amico che mi ha chiamato da Milano. Pieno, pieno, pieno adesso. A fare comprare. No, quando vuoi dare sui video in arte? Se metto... Dai, fammi vedere sto cazzo di... Un cavolo di video, dai. Aspetta che devo fare video art, lo sai. Vedi art, piano. Come scazzi? No, adesso. Mettiamo così, dai. Guardalo bene. Guardalo. Non sentirà altro. Si vede bene. Ho messo... Modellità professionale. Quazzo è un figliato. No? Allora, uno senza capelli che si asciughe i capelli. Non stai fin... Ah, sì, stai fin... Ah, sì, stai fin... Un telefonino. Tutto c'è molto art. Aspetta, che adesso ti fa vedere. Molto art. Facci male. Non c'era messo fuori. Eh, no, no. Ce ne sono. Samuele Contarini è un noto pittore di Ravenna. Ti ho fatto sfondare io, chiaramente. Nel mondo dell'arte. Io sono Piero. Piero. Piero arte. Poeta. Scrittore. 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 Tu vuoi vedere che schiffezza? Ma sta buona che dopo mi fanno... Ha fatto una schifezza incredibile. No, poi te rupo qua mi insultano. Ma fallo a te. Non sono una fattista. Fallo a te il video con le... Sto via. Sì. Tu hai sempre avuto delle particolarità. Sì. Ti riprendo la tua capigliatura. Che fa cagare. No, così si vede, cazzo. Vallo, così, così. Questo sarebbe il video che hai fatto tu? Sì. Eh? Eh? Guarda che stai prendendo una cosa professionale. Allora, vogliamo fare un saluto agli amici di Facebook? Amici di Facebook! Cosa gli auguri per stasera? Di? Mi dice... Natale! Buon feragosto! Buon feragosto! Ci vediamo tutti a Ibiza 2017, dai! Nello Space! Il purecio, vediamo il cocco! Cocco ricco! Cocco ricco! Cocco ricco! Cosi più culturali, dai! Ti vedo molto... Molto sommelier art! Cosi più culturali! Ma le sai che in questo video io ti do visibilità mondiale? Strat! Eh? Anche la Crevara? Cult! Stratkalt! Mi sembra che il video... Cos'entra i tre? Come si chiama lui? Ghets! Eh? Questo è un video alla Ghets! Stiamo a scherzare! Questa è arte pura! Chi entra in questo video diventa veramente famoso! In Italia soprattutto è arte povera! Allora arte povera! Chi entra in questo video è molto molto famoso! Molto famoso che hai in sto video! Molto molto! Signorina! Signorina venga qua un attimo! Oh! Dopo questa posso anche... Esatto! Se la metto su mi stronca! Dove siamo qui in via? Stratkalt! Via? 13 giugno o 4 novembre? Beh va! Via 4 novembre va! C'è la Renata! Questa qui... Chi ha la tua amorosa? Vestita di bianco celeste! Eh un po' tinca! Ma voglio di fare dei video! Boh! Ci entriamo! Ci entriamo! Ci entriamo! Ci entriamo! Dai! Cioè per essere sabato sera? Si troppo... Si troppo razionale! Si troppo razionale! Allora sai dove la metterei adesso il video? Te lo metterei qua!